Ciao a tutti, come sempre siamo qui allo Star Shop Napoli, una delle più belle di Napoli, siamo qui per parlare un'altra volta del fenomeno cosplay, ora ci stiamo avvicinando la data del Comic Con, 30 aprile, primo maggio donaggio, quindi siamo molto sotto la data, ci si sta organizzando, si corre sempre all'ultimo minuto per preparare i costumi, io sono molto infatti già piena di costumi, è la fase più bella se vogliamo. Qui sono sempre come ogni sabato a ricevere tutti i cosplay dalle 16 alle 19 e 30, che aspetto sempre tutti per dei consigli, per realizzare i costumi, insomma tutto quello che vi può interessare. Siamo qui anche con altri cosplay, per cui ci sta anche Davide, il figlio di Enzo, che anche lui è un valido aiuto per me e quindi siamo sempre qui per voi, insomma, per l'organizzazione cosplay. Per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, dovete sempre rivolgervi a me e sono qua ogni sabato, come ho già detto, nella fascia oraria. Grazie come sempre a tutti, insomma, che siete ancora con noi. Grazie!